Hehehe, sono Pazzox e ben trovato in questo nuovissimo video. Questa è la mia reazione durante l'evento finale della season numero 8. Purtroppo non si sentirà il mio audio, non si sentirà l'audio di gioco perché non ha registrato l'audio in sé, grazie mille OBS. Si apre e sfonde del saccheggio... Eeeh, sto bianco! Si entra! ...e tutti possono entrare al suo interno. Il gioco ci dà la possibilità di scegliere un'arma valutata... Questa è la gen... kidama di... Le armi le valutate! E riportarne soltanto una a nostra scelta. Per la Tommy, dai, per la Tommy! Andiamo per la Tommy! Ovviamente tutti quanti si sono cimentati verso la cara Thompson... E alla fine è stata selezionata proprio la Thompson. Però c'è qualcosa di strano. Di chi è questo elmetto? Sarà uno dei personaggi della season numero 9? Sicuramente sì. Un nuovo eroe o un nuovo cattivo? Ci scaraventano di nuovo all'interno della nostra mappa con un'ambientazione molto molto tetra. E il vulcano, incazzato, distrugge il corso commercio. La carissima è finalmente... Oh, dopo tantissimi season... Pinnacoli pendenti ci dice... Addio! Pinnacoli giù! Pinnacoli giù! 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 Finalmente! No, corso commercio prima! Corso commercio! Il quadrupla! Attenzione! Pam! Oh! Ciao, Pinnacoli! L'evento è stato veramente fighissimo. Figo tanto quanto il missile della stagione numero 4. Voi cosa ne pensate? Come l'avete presa per la distruzione di Pinnacoli? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ricordate di supportare Pazzox all'interno dello shop di Fortnite. E noi ci vediamo domani con la storia. Con docissimo e carnissimo... La Tommy! La Thompson! So!